La voce che da più di 10 anni commenta gli avvenimenti di questo giornale si è vestita oggi delle sue spoglie corporali ed eccomi qui in carne ed ossa a fare due chiacchiere con voi da un po di tempo a questa parte una parola è diventata di moda ridimensionamento già tutti si ridimensionano e allora anche noi abbiamo pensato che l'unico modo per ridimensionarci era quello di spalancare a voi amici spettatori le porte della nostra redazione in altri termini si tratta di questo chiunque di voi abbia un problema da impostare un quesito da risolvere una curiosità da soddisfare ci scrive noi vi risponderemo cinematograficamente ma davanti alla macchina da presa verrete voi stessi autori delle vostre lettere ad illustrare a tutto il pubblico d'italia problemi quesiti curiosità nello stesso tempo noi inviteremo davanti alla macchina da presa uomini di governo personalità esperti in una parola le persone più qualificate a risolvere o a chiarire quanto vi sta a cuore è perfettamente inutile dirvi che saremo felicissimi di avervi nostri ospiti offrendovi il viaggio dalla vostra città a roma e relativo soggiorno amici spettatori scriveteci ma scriveteci soltanto su cartolina postale indirizzando settimana in convia nomentana roma contiamo moltissimo sulla vostra collaborazione e ve ne ringraziamo anticipatamente amici spettatori arrivederci presto su questo scherito grazie grazie grazie